Un grande bacio e tutto il mio sostegno ai ragazzi della SD Anacapri. Continuate a giocare e a sognare e ricordatevi che la vita davvero può essere trasformata in quello che vogliamo, anche grazie ad iniziative belle come questa. E ricordatevi che la vita è come uno specchio e ci sorride se la guardiamo con un sorriso. Ciao, guaglio!